Torninelli del Movimento 5 Stelle in diretta, eccolo, sentiamo. La gente non ce la fa più. Ma era più importante andare al governo magari sacrificando Savona per voi? Ma perché? Evitare questo stroppo... Ma lei sa che il governo ha la fiducia del Parlamento? E il Parlamento ha la rappresentazione della sovranità popolare, articolo 1 della Costituzione? E sa che il governo non deve avere la fiducia del Presidente della Repubblica? E perché quindi un governo che poggiava su un programma, che veniva realizzato da una squadra di ministri, doveva cambiare un ministro che realizzava il programma, violando, se cambiato, il principio di solidità popolare. Cioè, tratto un curriculum stellare, ma soprattutto, tra l'altro, non c'era nulla che mettesse in dubbio l'Unione monetaria, e tantomeno ci mancherebbe altro. L'Unione Europea dispiace tanto, veramente, dispiace il cittadino, dispiace la gente in giro rammaricata, ma convinta di mandarci avanti tranquillamente, e penso che la conseguenza mi dispiace per i vecchi partiti, mi dispiace, lo dico eronicamente, per l'establishment, ma verranno spinti indietro dalla forza della sovranità popolare. Grazie, ragazzi, grazie, arrivederci. Buona giornata, ragazzi.